salve care amiche ed amici oggi sentivo che dovevo fare un altro video però la mattina sono uscito adesso sono le 18 e 35 di martedì 21 di luglio non so se si riesce a vedere e quindi 18 36 il punto cerco di tenere il cellulare basso il mio nokia asha 302 di quindi regola adesso riesco a farvi un altro video per inquadrarmi meglio e vediamo come viene così poi vi potrete domandare di che parlerà in questa volta che ti senti di parlare beh introdurrò a un altro argomento del quale ho parlato nel passato per tagliare un po con l'ultima linea argomentativa la grecia il referendum si prassi il debito pubblico della grecia che ne ha fatti molti di video dedicati alla grecia che adesso voglio cambiare di tema non perché non parlerò più di cipres della grecia del debito pubblico greco di quello che sia ma perché voglio un po ritornare ai miei vecchi cavallini di battaglia e quindi vi dirò cose nuove vando alle ciance e cambiando del scenario perché adesso mi trovo nella mia ormai consueta per voi che guardate tutti i miei video biblioteca con i miei libri comunque continua a parlare di quello a cui volevo introdurli prima cioè l'argomento del giorno e vai col taglio che mi hanno consigliato le mie amiche ed amici di youtube liceo i direttori tecnici contenti loro che faccio i tagli e forse anche contenti tutti voi e tutte voi l'argomento del giorno è la meditazione la meditazione la meditazione è una cosa molto importante che può riequilibrare la mente dargli il giusto restore e anche il giusto ristoro ci sono moltissime tecniche meditative contemplative di rilassamento nella disciplina buddista in quella hindu taoista e tutte sono molto interessanti e abbarcano tecniche psicofisiche mentali di visualizzazione ripetizioni di mantra concentrazione mentale esercizi fisici psicofisici come il tai chi chuan il falun gong lo yoga il pranayama il qi kung in generale sono delle discipline che permettono di raggiungere stati d'animo alterati livelli di coscienza differenti questo al margine di quello che può essere un discorso religioso si tratta di raggiungere un sincronismo fra insomma e la psiche nome meglio dire fra insomma e il fisico e quindi tra il corpo e la mente vorrei in questi giorni visto che ho tanti libri tanti no ne ho abbastanza sull'argomento per esempio un piccolo libretto e la meditazione passo a passo del dalai lama che di meditazioni se ne intende e questo è basato su un testo le tappe della meditazione un manuale scritto dal maestro kamarashila al principio del secolo nono della nostra era volgare era volgare perché adesso sarà raffinata quindi che dire prossimamente e ritornerò con la mia rubrica letteraria perché ho tanti libri come potete vedere da commentarvi però se voi volete darmi delle suggerenze ci sono dei testi che vi interessano di più fatemelo sapere perché mi piacerebbe parlarvi di qualcosa alla quale voi siete interessati non parlare di cose a caso quindi ditemi se vi interessa la meditazione soffi buddista hindu eccetera e che io magari riuscirò a trovare dei testi pure cercherò in rete quindi se avete dei libri sulla meditazione o sulla contemplazione che vi interessano per esempio questo è un libro su galli perché avevo comprato il vhs grandi la lotta solidaria hanno la lotta solitaria di un uomo il nome della libertà e dell'indipendenza del proprio popolo di giorgio borsa cascati di buon piani riuscito con il video video corto essenziale per esempio ho già dato una lettura almeno del primo capitolo della instruogli de buddha titolo inesperanto per l'istruzione del buddha io l'ho letto in italiano voi potrete trovare il mio video nella rubrica letteraria del mio canale di youtube santi e inenarrabile la libertà che consegue la mente nella pratica della meditazione e inenarrabile lo stesso quello che si prova a leggere la libertà che prova la mente leggendo e la stessa che prova la mente limitando ed è inutile dire quale elevata sia la libertà che la mente raggiunge meditando le cose che legge anche e anche più alta la libertà che la mente raggiunge non solo se medita le cose che legge ma se medita le cose che legge che riguardano la meditazione capito se meditare eleva la mente leggere anche leggere della meditazione leva anche di più meditare sulle letture sulla meditazione non ti dico e poi non resta che scrivere scrivere dell'esperienza che si meditava sulla meditazione metti tanto la lettura della meditazione meditando la lettura evitando quello che si aveva capito e come disse qualcuno legge legge le legge le legge legge le legge non vengi ora è che lavora legge legge le legge come potete guardare da qua e io ho letto ha letto e riletto io ho straletto invegne rifletti anche ora da due anni che parlo molto in youtube quindi sì io oro lavorano sono disoccupato quindi per me a meno che non mi paghino per fare i video se è possibile che io lavora io non lavoro ma legge legge le legge invegne ora è quello per me va bene perché legge legge le leggi leggi di leggi guarda un po che roba qua tre mobili pieni di libri tre biblioteche invegne se tutto questo non mi fa pensare tutto questo che ho letto voglio dire a che cazzo mi è servito ora e sto a discorrere qua poi ogni tanto recito dei mantra quindi oro molto lavorano troppo tempo passo leggendo e non c'è tempo per lavorare ecco perché voglio fare questa serie di video per youtube poi anche su vimeo e dell'inmotion perché io volevo scrivere sin dai 12 anni però difficile trovare un editore che ti pubblichi allora ogni giorno che la gente legge di meno ma vede molti video che quando io ero giovane non c'era youtube scusate quando io ero giovane non c'era youtube e con un cellulare non potevi farti un video per poi caricarlo in internet attraverso il computer io c'avevo l'ultimo computer che da giovane ha avuto era la miga 500 che manco riusciva ad entrare in rete perché non c'avevo la rete e sembra che poi era uscita la miga 1200 che c'era c'erano persone che si connettavano a internet però internet era cara ce l'avevano in pochi non era una cosa di massa sarà stata di carrara però ecco vabbè più la vi parlerò della meditazione che premettono una attività che libera la mente dovete mi dovete credermi se la mia si è liberata troppo meritare e leggere sono nobili attività quindi io merito sulle letture o delle letture di meditazione sulla meditazione e vorrei comunicarvi qualcosa quindi se voi avete degli interessi letterari anche comunicatemi lo e poi più là vi parlerò meglio della meditazione non sarà un libro di meditazione parti o come meditare in modo particolare ma i vangeli apocrifi è un libro interessante che fa meditare molto sulle origini vere del cristianessimo quindi come dire la meditazione leva lo spirito e come diceva renzo arbore meditate gente meditate e con questo proverbio saggio vi lascio alla prossima saluti dal vostro santa e gianni grazie di seguirmi ciao 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 ciao